Ortaggi e verdure invenduti mentre sono schizzati sui banchi di vendita i prezzi degli stessi prodotti a causa della diminuzione delle richieste con la crisi da coronavirus. L'appello di Coldiretti Puglia a proteggere la filiera. Al macero, ortaggi e verdure mentre sono schizzati sui banchi di vendita i prezzi degli stessi prodotti. E la denuncia di Coldiretti Puglia e di tutti gli agricoltori che a causa di una diminuzione degli ordini e della carenza di manodopera vedono allargata la forbice dei prezzi dal campo alla tavola con l'aumento dei prezzi al consumatore ad un tasso superiore di 40 volte quello dell'inflazione. In queste settimane abbiamo assistito a rincari clamorosi dei prezzi di broccoletti e cime di rape dice Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia mentre nei campi i nostri agricoltori stanno mandando al macero, pe, sedano, finocchi, cicorie rimasti invenduti proprio quando i consumatori sono in fila davanti ai centri commerciali per acquistare questi prodotti. È evidente quanto in questo momento serva a rivedere il modello distributivo dal campo alla tavola che con tante intermediazioni rischia di danneggiare gli anelli più deboli della filiera i coltivatori e i consumatori. Per questo lanciamo ancora un appello ai supermercati e ipermercati ad approvvigionarsi di prodotti pugliesi stagionali perché anche l'acquisto di prodotti fuori stagione condanna l'approvvigionamento da altre regioni o peggio dall'estero, con il prevedibile aumento dei costi. Per affrontare l'emergenza coronavirus è nata l'Aleanza Salva Spesa Made in Italy con agricoltori, industrie alimentari e distribuzione commerciale che si impegnano a garantire le forniture alimentari agli italiani e a combattere qualsiasi forma di speculazione sul cibo dai campi alle tavole. Serve quindi una grande azione di responsabilizzazione dal campo allo scaffale per garantire che dietro tutti i prodotti agricoli e agroalimentari in vendita italiani e stranieri ci sia un percorso di qualità che riguardi l'ambiente, la salute e lavoro con un'equa distribuzione del loro valore.